Tutti i telespettatori, chi si nasconde dietro questa maschera? Allora io vi do un'indicazione Allora vi do un'indicazione E' un artista, contorsionista, cabarettista E' stato capo degli Ultra, è andato a Ciao Darwin Ha pagato 30 milioni per le telefonate erotiche alla SHIP E' andato ultimamente anche al Brutto Anatroccolo Che era il brutto più brutto dei brutti Chi è? Levamo la maschera? Il più brutto dei tutti, Antonio, nominato il più brutto d'Italia C'è la Laura Milano, Venezia, Roma, la Laura è là E presto diventerò il più brutto del mondo E quando il più brutto è l'universo? Adesso i brutti dei più obbligo hanno comunicato in tutto il mondo Che è passato Anthony, l'artista, il più brutto d'Italia Dopo viene il più brutto del mondo Nominato in tutte le parti del mondo C'è Antonio Farnetti, anch'io guardo cantiere Togli, 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 è il capo dell'Italia Sperati